amici sportivi amici fanta allenatori buongiorno ben trovati dal vostro veterano del fanta calcio sono davvero contento di fare questo video oggi su uno dei pochi giocatori che in questo calcio mercato mi hanno fatto dire wow in questo caso parliamo di carson giocatore del bologna arrivato grazie appunto alla combinata tra mister tiago motta di s sartori stanno facendo un calcio mercato interessante magari un po poco noto a livello di nomi ma sicuramente molto interessante sulla scia sulla schiera di quello che era un po fatto a livello di atalanta quando appunto sartori era di essere dell'atalanta in questo caso si sta scatenando con gli esterni d'attacco così come è richiesto da tiago motta in questo caso purtroppo però carson è un giocatore che è finito l'istato attaccante questa cosa un po ne deprezza a livello di costo di fanta calcio di appetibilità fanta calcio visto che appunto gesper carson è un giocatore a mio avviso straordinario e per questo motivo andiamo ad analizzarlo punto per punto per capire quanto spenderci come spenderci come muoverci durante la strategia della nostra stessa di fanta calcio intanto di chi parliamo parliamo di un giocatore davvero molto bravo classe 1998 e alto 179 giocatore svedese un giocatore abituato a fare bonus in abbondanza la stagione 20 21 ha fatto 32 presenze 11 gole 9 assist la 21 22 ha fatto 34 presenze 15 gole 13 assist la stagione 22 23 la scorsa ha fatto 23 presenze 9 gole 4 assist e qui infatti andiamo un po a puntare il dito per capire dove andare a puntare a livello di negatività l'anno scorso è stata una stagione abbastanza travagliata a livello di infortuni però comunque carson al suo rivo in italia ha detto che sta bene anche questa stagione ha avuto qualche acciacco fisico niente di particolarmente grave qualche fortuna muscolare ma che un po ne nella mente dei fanta natori ne deprezza un po' il valore quindi questo è un punto importante quindi partiamo dai contro questa volta dove di contro sono appunto il ruolo di attaccante e non centrocampista tanti si sono chiesto come mai perché avendo appunto sia andoie sia orsolini e centrocampisti che di fatto giocano al stesso ruolo questo potrebbe essere una negatività importante ma noi non facciamoci sorprendere teniamolo boll teniamo batta perché carson un giocatore clamoroso quindi anche l'attaccante va assolutamente preso e per quanto riguarda gli infortuni anche qua diciamo che sono stati infortuni muscolari quindi mediamente si può andare a pensare che quest'anno si possa avere infortuni di minore entità e quindi con minor tempo di permanenza nella casella degli infortuni ma in questo caso carson va tenuto in maniera forte e importante potrebbe rivestire anche il ruolo di vice zirche non ha convinto tantissimo zirche la prima contro il milan io dico e penso che alla fine qualche punto arriverà e che ci sarà parecchia rotazione tra gli esterni sia a sinistra sia a quindi carson può fare davvero tutto è un giocatore che sbaglia molto non è escluso anche una potenzialità come falso 9 ma valutiamolo nel durante lo vedo molto più esterno andiamo ad analizzare quali sono i punti di forza e le poche debolezze punti di forza sono sicuramente che è molto forte sui tiri da lontano è molto forte sui calci di punizione diretti e diretti forte sui calci piazzati sulla protezione della palla sulla finalizzazione sui cross sui passaggi chiavi e sui passaggi in generale la debolezza riguarda il contributo difensivo dove un po abbastanza scarso però effettivamente spende molto in fase offensiva stile di gioco di carson taglia verso il centro tira dalla distanza alza spesso la palla crossa spesso e come debolezza non si getta nei contrasti quindi queste debolezze che sono quelle difensive sono confermate anche appunto dei dati statistici che riguardano carson perché ha voluto ottengo molto questo esterno perché li spreme molto sulla fase esterna come detto è un giocatore che però ha un grandissimo potenziale i numeri dicono questo ma anche se poi andate a vederlo visionarlo a livello di numeri e di gioco sicuramente capirete anche voi la sua forza e la sua possibilità di sfondare in una nostra serie a quindi giocatore da prendere al momento come quarto slot perché la probabilità è abbastanza scarsa e appunto il fatto che sia stato attaccante un po ne deprezza il suo valore popolarità è un 7 su 10 titolarità mi avviso 9 su 10 nel senso che avremo tanta tanta minottaggio su di lui prezzo consigliato 4 per cento in tutte le leghe se avete contatti biannali in questo caso potrebbe essere una buona idea un'ottima idea andare a puntarci vi aspetto presto ragazzi una buona giornata e un buon studio fantacalcio ciao a tutti